Uè, è da tanto che non ci vediamo, da tanto che non ci sentiamo, ma tu lo sai che sono sempre stato qui. Ormai sono passati due mesi dall'ultimo video che ho caricato, ma lascia che ti racconti questa storia, perché sappi che una volta entrato nell'avventura, stravolgerà la tua vita. Ciao, ciao. Io vorrei pensare alla tesina, cose che ancora non ho fatto minimamente, e quindi diciamo che sotto l'aspetto scolastico siamo abbastanza impicciati. Quindi sì, mi leva più tempo rispetto a magari gli altri anni, però io vorrei comunque continuare a portarvi video. Infatti in tutto questo periodo io li ho anche registrati, ce li ho sul computer. Ho registrato un video su Ghost Recon, un video su Horizon, un video con le sdrago corse con gli altri, un video che sarebbe dovuto essere tipo il video del ritorno su YouTube, tra virgolette, nel quale mi tagliavo la barba, cosa che ormai avete già visto. Però il punto è che nonostante ci sia la voglia di registrare, ne stavo parlando proprio ieri con Mollu, che a proposito, raga, Mollu si è fatto da poco un canale suo. Quindi per quanto possa essere piccolo l'aiuto che io posso dargli, vorrei dargli una mano. Quindi vi dico che qua sotto in descrizione, se riesco anche qua nelle schede, ma non mi ricordo bene se si può fare, vi linkerò al suo nuovo canale. Comunque, tornando a noi, stavo dicendo, nonostante la voglia di registrare ci sia, e anche tanta, sinceramente, perché comunque anche nei registrati video con gli altri, il punto è editare. Cioè, ve lo giuro, raga, non so perché, appena apro Premiere, mi scende tutta la voglia del mondo, proprio. E di questo mi dispiace tantissimo, ve lo giuro, raga, io sono settimane, ormai mesi, che ogni giorno dico, oggi è il giorno, oggi è il giorno, oggi è il giorno, questo è la mattina. Arrivo il pomeriggio e dico, vabbè, dai, oggi è l'ultimo giorno in cui dico che oggi è il giorno, e che poi non lo faccio oggi, ma lo faccio domani, e così andiamo avanti all'infinito. Comunque, nonostante ciò, io sono qua, davanti a voi, per riprovarci, ancora una volta. Non so benissimo che giorno sarà oggi che state vedendo questo video, penso tra venerdì e domenica, cioè, tipo venerdì o sabato o domenica. E poi, dai prossimi giorni, appunto, vi pubblicherò mano a mano tutti i video che vi ho annunciato precedentemente, che ho appunto registrato. Inoltre, per chi mi seguiva con Destiny, vi volevo dire che tra poco uscirà un DLC, che sarà tipo il DLC conclusivo e davvero non vedo l'ora di farlo. E anche su Battlefield, per chi mi seguiva su Battlefield. Poi, come ho detto, ho fatto l'esdrogo corsi, quindi vorrei portarla, non so se settimanalmente, però minimo una volta nelle due settimane le corse le porterò. E poi, boh, vedremo. Vorrei fare anche qualche stream, come avevo preannunciato, mesi e mesi fa. Inoltre, raga, vi volevo far vedere cosa che vi farò vedere, tipo, anche nel video quello della barba, no? Là sembra tipo la novità, ma in verità lo state vedendo già qua. Cioè, fate finta che quel video, che quando vedete quel video, fate finta che questo video non esista. Mi comprende? Da circa una settimana mi è arrivata questa, ossia la mia felpa. Questo qua sarebbe il mio autografo. In pratica, probabilmente nel video vedrete che la scritta è tutta bianca. In verità non è bianca, ma ha un contornino azzurro ed uno rosso. Quindi, se voi la vedete da vicino, è bianco, azzurro e rosso. Ma nel momento in cui vi ho allontanato un po', anche due metri, cominciate a vederla sfocata. Perché è un effetto ottico, tipo quello per gli occhialini 3D, ok? È quello il principio. Mi sono sbizzarrito a fare qualcosa di diverso. Comunque, prossimamente, nel caso siete interessati, vi farò sapere dove potrete trovarle. Ad ogni modo, raga, il tempo passa, ma Mike non ci lascia. Comunque, spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto. Ve lo giuro, ci sto mettendo tutta la voglia che ho. Ve lo giuro, sono troppo casato. Ora è troppo fare video. Cioè, io streamerei all'infinito, fare video all'infinito. Ma ve lo giuro, quando mi metto qua davanti, boom, una bomba atomica casca dentro al mio cervello e scompare tutta la voglia di fare qualsiasi cosa. Tranne guardare Netflix. Perché Netflix vince su tutto. Ve lo giuro, è davvero una droga. La vorresti una serie riguardante, tipo, le serie TV che guardo? Dato che praticamente ogni giorno metto le storie sia su WhatsApp, che su Instagram, che su Facebook. No, Facebook non lo faccio più. Che Snapchat. E ogni giorno utilizzo Netflix o guardo comunque delle serie TV. Su me sarebbe figo, non è tipo una cosa di critica, ma è tipo più di opinione, capito? Raccontarvi un po', ovviamente, senza spoiler. Però se me potrebbe essere un qualcosa di carino, fatemi sapere qua sotto nei commenti. Ad ogni modo, ragazzi, io spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel amici commento qua sotto, iscrivetevi in caso che l'avete fatto. Noi ci sentiamo domani o nei prossimi giorni con un nuovo video... Keep calm e stai strafatto. Bene, raga, Fabio Mollura, io ti amo. Ciao, ciao.